Aumentano i costi dell'energia, un problema non soltanto per le aziende del distretto ma che si ripercuote anche sulle famiglie con un incremento dei costi nelle bollette di luce e gas. Come confermato dal direttore dell'area commerciale di Estraenergie, Samuele Vaiani, si stima infatti un aumento di circa 300 euro in più rispetto allo scorso anno. Diverse le ragioni di questi rincari. La prima in qualche modo è positiva perché è la ripresa dopo il Covid che quindi ha fatto aumentare i consumi rispetto all'anno scorso. Altre motivazioni sono legate all'assenza del riempimento degli stoccaggi in Europa, quindi non è un problema solo italiano ma è un problema di tutto il continente europeo. E lo scarso afflusso di gas proveniente dalla Russia che in questo momento non sta inviando più gas di quello che era previsto dai contratti a lungo termine. E quindi questo ha causato un incremento sul prezzo e purtroppo ne vedremo le conseguenze anche all'inizio del 2022 con una differenza importante rispetto all'inverno scorso che potremmo quantificare su un consumo medio di una famiglia con riscaldamento in Toscana sui 300 euro in più rispetto all'anno scorso. E per far fronte a questo considerevole incremento dei prezzi Estra ha messo in campo una serie di iniziative per i clienti finali. Abbiamo rinnovato i contratti a prezzo fisso già da un paio di mesi a questa parte mantenendo un livello di prezzo molto positivo per i clienti al di sotto del prezzo della tutela e ancora oggi con soprattutto le nostre listine web, cioè quelli che i clienti possono andare a sottoscrivere direttamente sul nostro sito internet, manteniamo un livello di prezzo basso per la fornitura dei prossimi 12 mesi. Questo vale sia per i clienti che vengono dalla tutela e quindi da un prezzo indicizzato che in questo momento è più alto, sia per quelli che ad oggi non sono nostri clienti e vogliono fare un contratto con Estra.